Ciao ragazzi qua a ZW Jackson, bentornati sul mio canale, siamo qua al campo della Lombardia 1 con Odo Amadi, allora come stai? A posto, benissimo, allora quest'oggi siamo qua per fare delle challenge calcistiche, io ti vedo carichissimo, ma voglia spiegare, voglia raccontare, perché comunque sicuramente tutti ti conoscono, perché comunque sei un giocatore famoso, però qualcuno, magari qualche ragazzino piccolo che si è perso quegli anni lì, gli raccontiamo un pochino la tua carriera, gli raccontiamo chi sei? Io sono Odo Amadi Namdi, sono ex giocatore del Milan, anche in Nigeria, sono nato in Nigeria, sono nigeriano, e poi ho fatto Milan, poi sono andato in giro qua in Italia, in Serie B, Torino, Varese, Latina, Brescia, poi sono andato fuori a giocare a Helsinki, poi a Tirana, Adesso sono fermo perché ho fatto male a Clavicola, ma adesso sto bene Adesso sei carico? Sì, sì, sto Confederation Cup, mi dicevi anche Sì, sì, Confederation Cup, sì, in Brazil, ho giocato là, ho fatto tripletta subito, c'è ragazzi, sì, hai vinto anche il campionato, no? Sì, ho vinto il campionato Cioè, tu hai vinto la Serie B? Sì, 2011 con Milan, quando ci sono i giocatori, i campioni, dico, Ronaldinho, Tu hai giocato con quella gente lì, Rodinho, Boateng, tutti, Cassano, Gattuso, che è allenatore, no? Eh ma, raccontaci qualcosa che succedeva in quel Milan, perché siamo curiosi Quel Milan, no, dico, grazie a Dio che ho giocato con questi giocatori Coronaldinho, io non so cosa dare Sì, è una cosa che è un sogno, un sogno per me Quanti anni avevi? Sì, avevo 19 anni, 19-20 anni Io ci giocavo alla Play con quelli, no? Eh, bro, guarda, dopo allenamento guardavo loro che scherzano, hai capito? C'è la fiducia tramite loro e sono contento di giocare con loro Qualchiera, chi era secondo te il più simpatico in uno spogliatoio di quel Milan? Cassano? E quell'anno, oh ma Cassano, prendi sempre in giro qualcuno Anche te? Mamma mia, è un grande, è un grande fratello Sì, bravo, è bravo E Gattuso era veramente cattivo? Io non volevo dire niente, ma Gattuso Gli facevate gli scherzi? Guarda, è bravo Durante, diciamo, allenamento lui vuole vincere, sempre E' uno che dice, oh vai, vai, vai E quella non è che fa questa per mettere di stare male Certo, certo E' uno che vuole vincere Ti mette la grinta Sì, ti mette la grinta Uno che scherzi Prendo sempre scaffi a lui Sai, gioca, fai sempre drill E' un grande, rinunca Oh Du, guarda, già sentire queste cose Poi sai cosa mi piace di te? Che si vede che sei uno felice che ama il calcio La vita, dobbiamo essere così, fra felice Se vuoi giocare a calcio, devi essere Comunque, allora, tu abbiamo detto prima che qualche partita a FIFA te la sei fatta, no? Sì Ok, lo sai che su FIFA 14 tu eri troppo buggato Eri troppo forte Forte, sì Eri troppo forte e velocissimo Sai quanto eri di velocità? 94 Fra, lo so, ma ero veloce Sei un ghepardo Grande, oh Du Allora, oggi Prima facciamo un po' di tiri perché ti vedo carico Con Jacopone in porta che adesso lo facciamo vedere Sfondo, si sfondo, Fra Ti aspetto E, e, e Dopo facciamo i 100 metri Bappe quest'anno su FIFA 21 a 96 di velocità E fa i 38 km orari Io ti calcolo quanto fai tu Ok? Va bene? Ok Ragazzi, andiamo in campo, oh Du Ti aspetto, Fra Allora Jacopo, come andrà? Bene, dai, bene Mi sono già allenato con Odu Sì, sì, che puoi fare questo? Oh, te li pari ha detto Dove hai mai giocato? Ecco, queste sono le ultime parole fondose Adesso mi impallina, lo so già Lui, anche lui mi conosco Quando faccio tiri non prende anche lui Grande, Odu Odu è tua Bello questo, sul primo Ecco Adesso Mi sono riscaldato Eh, si è riscaldato ragazzi Eh, questo è bello Oh, madonna Bello questo Ci sei adesso Ci sono Odu amadi Bello Mamma mia, oh, ma che ci ha fatto là? Mamma, non ci credo Che ha preso? Mamma mia, Fra Cos'hai fatto là? Ah, si vede che hai fatto colazione, eh? Mamma mia Oh Jacopo, che paratona Uh, come è scesa quella palla Eh, guai, questo non ho capito neanche Cosa? Sono troppo forte Non hai capito neanche tu come è scesa Mamma mia, sono troppo forte Bravo Uh Ma che call Mamma mia Madonna Madonna Non ne stai più sbagliando a mezza, eh Mamma mia Carico, cazzo Suona, suona Oh, Jacopo te le mette lì Adesso arriva Oh L'ho visto, cazzo Ancora l'ho visto, i ragazzi Sono felice Sono Quando sei felice Arriva tutto Vero, vero Ragazzi, ma Ascoltatele queste parole Vuoi dare un consiglio Ai ragazzi giovani Che magari Vogliono diventare calciatori Sì Loro devono Allenare bene Ascoltare miste Anche il giocatore Quella che è più grande di loro Allenare bene Arriverà Il loro Momento Momento Questa 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 Non so cosa ti Eh, questa forte Gli acqua, eh Una parata meravigliosa Questa Questa sotto il set Ragazzi, penso veramente Uno degli ospiti Più forti E più simpatici Che io vi abbia portato Iscrivetevi Cliccate la campanella Per altri video Di questo genere E con altri ospiti Perché veramente, raga Queste cose qui Chi ve le porta Eh, piede debole Invece nel sinistro Sinistro Vediamo Sì, vediamo Ok Aspetta Ok Sinistro C'è l'Ono Ci sei o no Odù Dimmi Adesso Ovviamente Io non sono forte Te lo dico già Mi metto in difesa Oh, fratti Sfondo Eh, appunto Ti aspetto Però almeno Sicuramente mi dribli Ok Però almeno driblami Con delle skill Ok Va bene Ok No Ma mi hai fatto il tunnel Quasi Eh, io ho visto il tunnel No No Vabbè 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 Vabbè, raga Meno male che c'è Jacopo Sì Voglio fare qualcosa Ragazzi Ha vinto lui Oh, per Jacopo Grandissimo Che portiere Odù Ho una sfida Calcoliamo Calcoliamo Il tuo overall Di velocità Quest'anno Su FIFA Ti ho detto che negli scorsi FIFA avevi 94 Sì Calcoliamo quest'anno Allora, praticamente dovrei fare uno scatto Da qui Fino a metà campo Quindi Più o meno 40 metri Ok Poi io calcolerò in base all'overall di Mbappé Che è su FIFA 21 a 96 La tua velocità quest'anno su FIFA 21 Ok Allora, mi metto lì in fondo E ti cronometro Tu fai lo scatto più veloce che puoi Ok Odù si sta scaldando Questa è la distanza Più o meno A 40 metri Guardate dove siamo A centro campo Siamo qui con il cronometro Appena dirò il via Farò partire il timer ovviamente E Odù partirà Si sta già riscaldando 3 2 1 Via 6 E 64 6 secondi E 64 ragazzi Lo voglio provare? Ragazzi secondo me fa anche di meno 3 2 1 Via 6 0 3 Ha migliorato Bro Grandissimo Grazie frà Hai fatto 30 km orari Mbappé fa 38 E ha 96 Quindi io secondo me Ti do 92 93 Ok Sì Arrivo là Più o meno la proporzione è questa Sì O no Iaco Da un anno Uno che non ha ancora giocato Da un anno Infatti C'è Io mi immagino Due anni fa Quanto cavolo eri veloce Ero velocissimo Comunque Ragazzi Decidete voi Qua sotto nei commenti E adesso dobbiamo fare un contesto Ok Odù Perché ragazzi Gli hanno rubato il profilo Instagram No? Sì Quella che ce l'avevo Aveva un profilo Instagram con 70.000 E adesso ha 28.000 Ragazzi ma gli facciamo questo regalo Odù Che è stato veramente gentile per fare questo video con noi Seguiamolo tutti quanti su Instagram Seguiamo anche Iacopone che è veramente forte È forte no? Grazie Mamma mia Lui è stato gentilissimo a partecipare in questo video Quindi facciamogli questo regalo Grazie fra Grazie a te Grazie anche Iacopo Ragazzi Seguiteci tutti su Instagram Iscrivetevi al canale E cliccate la campanella E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi